Dalla notte scorsa è ripreso lo sciopero di molte marinerie italiane, fra cui quella di Pescara, per protestare contro il caro gasolio. Dopo numerosi incontri, ricordiamo quello che si era tenuto due settimane fa all'Aurum di Pescara, è stata presa la decisione di non andare in mare. Da mesi le marinerie protestano per il consistente aumento del gasolio che sta portando sull'astrico gli armatori, che oramai non riescono più a coprire neanche le spese. Del problema erano stati investiti anche i parlamentari abruzzesi e la regione Abruzzo. Nei giorni scorsi anche alcune associazioni di categoria, fra cui la Confcommercio di Pescara, per bocca del presidente Riccardo Padovano, avevano lanciato l'allarme sul rischio concreto di non vedere più il pesce locale sulle tavole delle attività, dei ristoranti e delle famiglie abruzzesi.